Possiamo partire con la terza lezione del nostro corso, la nuova guerra mondiale. Questa lezione avrà per focus la quarta guerra mondiale e il suo cominciamento. Come si è arrivati a questa situazione, quale la scaturigine, quale la posta in palio, quali gli equilibri e da qui poi nelle lezioni seguenti proveremo a incastonare in questo contesto, in questo orizzonte di senso e di eventi, ciò che sta accadendo in Ucraina, come sempre, l'abbiamo detto fin dalla prima lezione, evitando la chiacchiera giornalistica, chiacchiera nell'accezione heideggeriana, la chiacchiera è il modo inautentico di affrontare le cose, rimanendo alla superficie, muovendosi tra curiosità, tra equivoci e naturalmente fra intendimenti di ogni tipo. Chiacchiera, curiosità ed equivoco. Ecco, noi proveremo a ragionare a partire dal cominciamento della quarta guerra mondiale. Come già ci siamo detti, la terza guerra mondiale fu la guerra fredda, una guerra mondiale caratterizzata dalla struttura diarchica dell'universo, che di fatto teneva congelati i conflitti, pur con i suoi punti caldi come la Corea e il Vietnam, ma che non di meno, grazie alla compresenza di due potenze imperiali, come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, conteneva i conflitti che non per caso, come sapete, sono riesplosi endemicamente dopo il 1989, cioè quando si è dissolta la potenza comunista, Berlino 1989 e seguenti, quando cioè di fatto la monarchia del Dollaro, venuto meno il suo rivale storico novecentesco fondamentale, ha preso di nuovo la sua marcia alla conquista del mondo, quella marcia che era stata contenuta dall'Unione Sovietica, che per questo abbiamo con il lessico della teologia politica definito to catecon, la forza frenante. Ecco, dopo il 1989, dissolta singloriosamente la potenza catecontica dell'Unione Sovietica, si è prodotta una logica di reduxio ad unum sul piano geopolitico, che talvolta viene fatta coincidere con la globalizzazione e che su un piano strettamente geopolitico coincide con la dinamica in grazia della quale gli Stati Uniti d'America stanno di fatto saturando l'intero mondo, sottomettendolo alla propria logica, cioè di fatto producendo una sorta di americanizzazione del pianeta, che va sotto il nome più neutro di globalizzazione, ma la globalizzazione è di fatto marxianamente il libero mercato a trazione atlantista che ingloba ciò che ancora non è inglobato. Possiamo dire che la civiltà del dollaro è la variante geopolitica o il vettore geopolitico e militare della globalizzazione mercatista. Siamo entrati quindi con il 1989, uso il linguaggio di Carl Schmitt, nel tempo della guerra dell'inimicizia assoluta, quella che non conosce più limitazione di sorta e che ha come posta in gioco fondamentale sul piano geopolitico, lo dico sempre con la grammatica di Carl Schmitt, ha come posta in palio fondamentale un Raumhordungskrieg, una guerra per un nuovo ordinamento spaziale. Il mondo liberato dalla presenza dell'Unione Sovietica è un mondo che viene gradualmente rioccupato dalla potenza vincitrice della Terza Guerra Mondiale, cioè la civiltà del dollaro. Sotto questo riguardo, la Quarta Guerra Mondiale, proviamo subito a identificarne gli scopi, ha quale obiettivo fondamentale il mantenimento solido di un mondo monopolare, quella che viene chiamata talvolta la Global Governance. Che cos'è la Global Governance? È il mondo ridotto a un unico governo tendenzialmente amministrato da Washington e rispondente all'interesse di Washington come garante della civiltà dei mercati. Questo è un primo obiettivo chiarissimo della Quarta Guerra Mondiale, mantenere il mondo monopolare, garantire la Global Governance. Secondo punto che caratterizza a mo' di scopo la Quarta Guerra Mondiale è la distruzione manumilitari di tutte quelle forze che ancora resistono all'americanizzazione del mondo. E quindi le guerre che dall'89 insanguinano il mondo sono per lo più guerre che la civiltà del dollaro conduce contro le forze che ancora le resistono. E questo è un secondo obiettivo molto netto di questa Quarta Guerra Mondiale. Altro obiettivo fondamentale che, a mio giudizio, sta già emergendo con nitido profilo, ma che sempre più emergerà negli anni a venire, è la prevenzione dell'emergenza di concorrenti asiatici o europei. Sotto questo riguardo non dico nulla di particolarmente originale se dico che la Guerra Mondiale in corso è una guerra con la quale di fatto gli Stati Uniti stanno provando con successo a depotenziare l'Europa per garantirne l'impossibilità di emergere come forza autonoma e anzi ridefinendola sempre più come forza di accompagnamento sottomessa alle logiche di Washington. E poi, naturalmente, il problema sul versante asiatico è l'emergenza della Cina come concorrente, già immersa pienamente. C'è chi ha detto che il secolo in corso sarà il secolo cinese. Ecco, la civiltà del dollaro sta provando in ogni modo a impedire che ciò accada ricorrendo all'occorrenza, alla violenza, quindi alle guerre, non riuscendo più letteralmente sotto più profili a tenere a freno la potenza economica e commerciale della Cina. Altro obiettivo di questa Guerra Mondiale è, come vedremo, una forma di svalutazione, non saprei definirla altrimenti, del diritto internazionale. Il diritto internazionale che aveva caratterizzato e strutturato l'età moderna va letteralmente gambe all'aria. Sta prendendo forma un nuovo diritto internazionale che non è più quello subentrato con la pace di Vesfalia del 1648, ma che segna l'avvento di un'epoca post-vestfalica, potremmo definirla così. Quarto obiettivo di questa Guerra Mondiale, forse già esplicitato, forse detto fin dall'inizio, è la mondializzazione senza frontiere dell'economia deterritorializzata, spoliticizzata, a guida atlantista. Ecco, se volessimo individuare... La Quarta Guerra Mondiale inizia già nel 91 con la guerra del Golfo, come sapete, ma se volessimo individuare il documento programmatico che mette a tema la Quarta Guerra Mondiale, allora lo troveremmo nel discorso tenuto dal presidente Bush il 20 settembre 2001. 20 settembre 2001, vale a dire, all'indomani della tragedia delle Torri Gemelle. Rileggendo quel documento abbiamo, credo, delineato con limpido profilo esattamente il contesto, ma anche gli obiettivi e i modi di questa Quarta Guerra Mondiale. La Quarta Guerra Mondiale è la guerra contro i terroristi. Ma chi sono i terroristi? Sono quanti non sono disposti a riconoscere la sovranità imperiale americana. Terrorista, come sapete, in questi giorni è stata definita anche la stessa Russia di Putin, stato terrorista. Chi sono i terroristi contro i quali si svolge la Quarta Guerra Mondiale? Sono tutti coloro i quali non si pieghino agli Stati Uniti d'America autoproclamati potenza che gestisce il mondo e la global governance di cui dicevamo. I terroristi, diceva W. Bush, odiano le nostre libertà. Quindi c'è una sorta di rovesciamento per cui gli attacchi che di volta in volta la civiltà del dollaro fa sono risposte a un odio che i terroristi hanno per la libertà occidentale e quindi sono sempre attacchi per definizione buoni perché non imperialistici ma al contrario volti a difendere i diritti messi a repentaglio in quelle terre di terroristi perché volti come guerre preventive a evitare il peggio insomma tramite questo grande dispositivo narrativo della civiltà del dollaro l'imperialismo esce di scena nell'ordine del discorso e subentra una sorta di peacekeeping così viene chiamato dagli Stati Uniti peacekeeping, le loro guerre sono in realtà operazioni di pace volte a combattere i terroristi a garantire la pace volte a fare guerre preventive per evitare l'apparire di guerre ben più pericolose insomma orwellianamente la guerra viene chiamata pace diceva W. Bush in quel discorso sono parole sue ne scaturirà una lunga campagna senza precedenti condotta sono sempre parole sue con operazioni segrete segrete fino al loro successo e con mezzi inconfessabili ecco così era tracciato nel 2001 il profilo di quella quarta guerra mondiale che in vero era già principiata fin dal 1991 this is the world's fight this is civilization's fight così diceva W. Bush questa è una guerra mondiale questa è una guerra di civiltà interessante di questo passaggio di Bush è intanto la sottolineatura del fatto che è una guerra mondiale lo dice il presidente degli Stati Uniti d'America è una guerra mondiale primo punto secondo punto è una guerra di civiltà buoni contro cattivi civiltà contro barbarie umani contro disumani terroristi ecco o siete con noi o siete con i terroristi aggiungeva altresì Bush altro passaggio importante se è una guerra del bene contro il male terzium non datur o si è con noi e quindi si combatte per il bene o se non si è con noi si è considerati come già dalla parte dei nemici e quindi non è possibile non schierarsi occorre essere dalla parte buona ovviamente quella che gli Stati Uniti hanno generosamente assegnato a se stessi è interessante il fatto che il pericolo rosso ormai sconfitto Berlino 1989 ha determinato l'invenzione chiamiamola così di un nuovo nemico assoluto nella quarta guerra mondiale il nuovo male radicale da estirpare non è più il nemico rosso che più non è dopo l'89 ma è il nemico verde il terrorista il colui il quale minaccia la pace mondiale e la global governance citando ancora Carl Schmitt si aprono nuove linee di nemicizia al di là delle quali cadono bombe atomiche e bombe all'idrogeno ecco questa descrizione che Carl Schmitt per ovvie ragioni cronologiche non faceva in relazione allo scenario post-1989 ci permette tuttavia di comprendere appieno questa nuova guerra secondo le nuove linee di nemicizia che portano alle bombe all'idrogeno e alle bombe atomiche si è così giustificata in termini quasi teologici una guerra giusta planetaria una versione post-moderna della crociata sono buoni quelli che lottano per il bene cioè per la global governance americano centrica del Washington Consensus sono nemici e cattivi i terroristi che resistono a questa avanzata del bene dopo l'11 settembre del 2001 viene normalizzata l'eccezione e con l'eccezione viene anche normalizzata la crociata del bene contro il male addirittura chi a memoria lo sa bene venne riabilitata la tortura come mezzo legittimo di combattimento dopo l'11 settembre si giustificò anche il ricorso alla tortura ma anche la presenza di prigioni clandestine delocalizzate e quindi sottratte ogni giurisdizione disse giustamente a quel tempo Giorgio Agamben in un testo intitolato Homo Sacer che viene dopo l'89 siamo nel 1995 prima delle torri gemelle ma già nella quarta guerra mondiale disse Giorgio Agamben azioni che di per sé non presentano il valore di legge ne guadagnano la forza se si definisce lo scontro come guerra di civiltà e il nemico come il terrorista non vi è pace né negoziazione possibile da che con il terrorista non si può trattare non si può scendere a fatti quando anche venga sconfitto lo si deve disintegrare e poco importa con quale mezzo si fonda una inimicizia assoluta che di fatto genera misure antiterroristiche che sono se stesse terroristiche il terrore contro il quale combattiamo giustifica infine mezzi che sono se stessi radicali e che di fatto finiscono per riproporre il terrore in nome della lotta al terrore bombardamenti distruzione di civili e di strutture guerra portata fino alle sue estreme conseguenze come si diceva sotto questo riguardo la sovranità imperiale mondializzata degli Stati Uniti impone dall'89 uno stato d'eccezione permanente e una guerra permanente che deve essere che deve essere continuamente mantenuta se ancora parafrasando Carl Schmitt sovrano e chi decide sullo stato d'eccezione nessuno oggi è più sovrano del presidente statunitense poco importa se sia Bush Clinton Obama Trump o Biden il presidente degli Stati Uniti d'America è colui il quale decide dello stato d'eccezione dicevo che il cominciamento si suole far risalire alla guerra del golfo del 91 ma in verità già nell'89 dicembre 1989 quindi poco veramente un mese dopo la caduta del muro di Berlino gli Stati Uniti già si avventuravano in una guerra interna questa quarta guerra mondiale l'invasione di Panama nome in codice guerra giusta giusta causa anzi che fu il primo atto della quarta guerra mondiale che nel 91 poi proseguì con la guerra di Iraq contro il nuovo Hitler Saddam Hussein in vista del controllo del mondo arabo e musulmano poi vi fu la guerra imperiale contro il Kosovo o meglio contro la Serbia per il Kosovo del 1999 con annessa reduxio ad Hitler di Milosevic e ci fu peraltro in quel contesto fatto troppo poco spesso ricordato la creazione di Camp Bonstil Camp Bonstil è ad oggi la più grande base americana sul territorio europeo che venne creata proprio in concomitanza della guerra della guerra contro la la Serbia e veniva così inaugurata la stagione degli attacchi imperialistici incondizionatamente difesi in nome dei diritti umani e della democrazia missilistica da asporto e da quel momento avremmo poi sempre trovato compattamente a marciare dalla stessa parte sia gli spietati e cinici difensori delle ragioni del più forte sia le anime belle come potremmo chiamarle con Hegel le anime belle che giustificano l'invasione imperialistica con la foglia di fico dei diritti umani della democrazia della lotta contro le dittature ma che in ultima istanza finiscono volenti o nolenti per giustificare ugualmente le invasioni imperialistiche ci fu la guerra una seconda guerra in Iraq nel 2003 ci fu l'invasione della Libia nel 2011 passando naturalmente per la guerra in Afghanistan avviata nel 2001 e ancora oggi come dire con effetti distruttivi sulla popolazione sul territorio ancora oggi gli Stati Uniti si sono recentemente ritirati dall'Afghanistan l'obiettivo qual era? era quello di occupare l'Asia centrale in funzione antirussa e anticinese naturalmente in quegli anni si imponeva soprattutto la demonizzazione dell'Islam come ideologia di riferimento per in qualche modo giustificare l'identificazione tra Islam e terrorismo e per giustificare ugualmente l'attacco antiterroristico ma a suo modo terroristico contro il terrore l'11 settembre del 2001 però è la svolta epocale come dicevamo perché in qualche modo diventa il casus belli per una sequenza di nuove aggressioni imperialistiche che sono presentate come risposte obbligate all'11 settembre e in qualche modo gli Stati Uniti d'America fanno valere sul piatto della bilancia l'aggressione che hanno subito nel 2001 e di fatto possono presso l'opinione pubblica mondiale giustificare cose altrimenti ingiustificabili presentate come guerre preventive contro il terrorismo di modo che appaia legittima l'aggressione di stati sospettati di terrorismo per evitare che si ripetano episodi come le torri gemelle questo è un po' il nocciolo dell'argomento non solidissimo che è stato utilizzato più volte abbiamo visto utilizzare argomenti che si sono rivelati capziosi e fasulli ricorderanno tutti la provetta di antrace esibita da Colin Powell come arma di distruzione di massa per giustificare l'aggressione dell'Iraq poi rivelatasi inesistente inesistenti armi di distruzione di massa però intanto l'attacco imperialistico era avvenuto e aveva portato ai suoi effetti per inciso l'Iraq nel 2004 venne sottoposto a una riforma privatizzatrice liberalizzatrice che di fatto includeva l'Iraq stesso nel mondo del libero mercato americano centrico e quindi armi di distruzione di massa mai verificate ritorna questo dispositivo anche nella Siria di Assad si parlò di armi di distruzione di massa sempre per giustificare l'aggressione imperialistica come in realtà volta a produrre il bene ricorda molto da vicino la nota favola di Fedro del lupo e dell'agnello dedicata a quelli qui fictis causis innocentes opprimunt chiaro in questo caso i governi in questione non sono innocenti perché chi governa per definizione non è mai innocente però sicuramente abbiamo visto più volte il lupo a stelle strisce che accusava l'agnello di inquinargli l'acqua con armi di distruzione di massa e così via peccato che era falsa la narrazione proprio come quella dell'agnello che da fondo valle inquina l'acqua al lupo che sta in cima al monte ecco e questa narrazione però è stata variamente ripresa e ancora oggi ritorna naturalmente in effetti l'accusa rivolta dal lupo all'agnello di avergli reso torbi dall'acqua dal fondo valle l'equivalente delle incriminazioni imputate dalla monarchia universale del dollaro ai cosiddetti stati canaglia rogue states impiego di armi chimiche di distruzione di massa genocidi ed efferatezze di ogni tipo sui cevini accuse che molto spesso non sempre ma molto spesso si sono rivelate come puramente funzionali a giustificare la preordinata aggressione dello stato in questione trattato come l'agnello della favola di fedro la lista di proscrizione degli stati canaglia era del resto già chiaramente delineata ben prima che si scoprissero le armi di distruzione di massa spesso inesistenti dietro ogni conflitto combattuto dal 1989 1989 ad oggi sempre in nome dei diritti umani e della democrazia vi è alla fine dei conti sempre la volontà di imporre il dominio economico e geopolitico di Washington contro stati che ancora non sono piegati a quel dominio e quindi in qualche modo la quarta guerra mondiale è la guerra che gli stati uniti d'america fanno come abbiamo detto per includere e neutralizzare chi è ancora fuori dall'imperialismo all inclusive della globalizzazione americanocentrica tutto questo è suffragato dalle singole operazioni adesso noi non affronteremo una dietro l'altra le singole operazioni che altrimenti ci dovremmo occupare solo di quello proviamo a volo d'angelo a comprendere quello che è accaduto la logica di questi di questi conflitti che hanno insanguinato il mondo e che ci portano al nostro al nostro presente come come dicevamo la mediacrazia televisiva ha svolto una parte importante bisognerebbe ragionare seriamente sul tema di come il nostro immaginario è stato plasmato manipolato dalla dalle operazioni mediatiche che hanno in qualche misura ha saturato il nostro immaginario molta parte della filosofia politica ha ragionato anche su questo Giovanni Sartori ad esempio parlava dell'homo videns e della videopolitica in Italia il berlusconismo è stato sicuramente un fenomeno di primaria importanza per la mediaticizzazione della politica e per come dire spiegare un evento che caratterizza non solo l'Italia cioè una sorta di calo costante della rappresentanza politica che procede di conserva con la crescita costante della rappresentazione mediatica della politica ecco quindi sempre meno rappresentanza e sempre più rappresentazione abbiamo visto in questi anni e come ci insegnava Guy de Bourne la società dello spettacolo lo spettacolo è un rapporto sociale mediato da immagini di modo che le immagini ricostruiscano e confermino la visione dei gruppi dominanti facendola apparire non di parte ma come se fosse in re ipsa come se fosse nella realtà stessa come se fosse la realtà stessa quando in realtà si tratta della realtà mediatizzata dell'immagine del mondo che i media ci propongono per giustificare l'ordine delle cose qui bisognerebbe ragionare a lungo sull'uso che il potere fa delle immagini mediatiche l'immagine è nella migliore delle ipotesi un frammento di realtà che si spaccia però come la realtà nella sua totalità se vi mostrano la violenza di un'aggressione supponiamo di un popolo come poteva essere quello serbo ma senza mostrarvi l'aggressione dell'altra parte vi stanno certo restituendo un frammento di realtà ma con una visione chiaramente ideologica quella che in qualche modo limita la violenza a una delle due parti del conflitto senza mostrarla nella sua totale presenza allo stesso modo abbiamo visto anche in questi in questi mesi in cui sempre più diventa difficile distinguere il reale dal mediatico quasi si dà una sovrapposizione abbiamo visto videogames addirittura presentati da media ufficiali autoproclamati professionisti dell'informazione videogames che venivano presentati come bombardamenti cagionati dalla Russia e si trattava in realtà di videogames ecco possiamo dire che sotto questo riguardo con buona pace di Habermas e del suo ottimismo comunicativo il dominio non si dissolve nella sfera pubblica ma al contrario si rinsalda nella sfera pubblica complice la proprietà privata dei mezzi di comunicazione e non solo dei mezzi di produzione complice l'uso non neutro che fa l'ordine del discorso dominante i padroni dell'informazione che sempre giustificano nel caso specifico l'imperialismo made in USA presentandolo come umanitario come interventismo etico e così via rovesciando la proposizione cardinale dell'ontologia di Hegel potremmo dire che il vero è l'impero per la società dello spettacolo il vero è l'impero cioè l'impero statunitense è il vero per definizione ecco quindi la società dello spettacolo ha giustificato e continua a giustificare tutto ciò che accade cosa produce la società dello spettacolo qui è doveroso un richiamo a Guy de Bourre la società dello spettacolo intanto ci mostra il capitale a un così alto grado di comunicazione e di accumulazione da diventare immagine lo spettacolo è il capitale che si esibisce come immagine e assume diceva Guy de Bourre la forma di una enorme positività indiscutibile inaccessibile sta lì dinanzi a noi noi dobbiamo semplicemente fruirne come spettatori quindi l'uomo videns è spettatore passivo di una realtà che si svolge si autocostituisce senza il suo intervento e deve di fatto accettarla come se fosse giusta e buona tra l'altro non deve sfuggire come nell'ordine dell'amministrazione manipolata del consenso e delle informazioni abbiamo sempre lo schema narrativo che abbiamo già visto nelle volte scorse quello per cui c'è secondo l'ordine narrativo mediatico c'è lo stato canaglia che opprime il suo popolo violandone i diritti fondamentali c'è il popolo unificato mediaticamente che vorrebbe liberarsi ma da solo non riesce e poi dulcis in fundo arriva l'interventismo umanitario a stelle strisce che abbatte il dittatore di turno libera il popolo e favorisce il passaggio dello stato all'ordine della globalizzazione americano centrica così potete leggere la guerra di Iraq di Libia e così via tutte le guerre interne a questa quarta guerra mondiale si lasciano leggere in questa prospettiva ed è allora davvero curioso che non venga mai intervistato un solo sostenitore degli stati canaglia dei cosiddetti stati canaglia la parola è concessa sempre solo agli oppositori come se appunto nella Cuba di Fidel Castro nell'Iran di Ahmadinejad al tempo o oggi nella Russia di Putin vi fossero solo contestatori del regime del perfido regime neo-hitleriano mai un oppositore per converso come sapete basti considerare il caso dell'Ucraina in Ucraina non c'è mai un solo oppositore del governo di Zelensky sono tutti sostenitori di quel governo anche se poi scopriamo che quel governo ha dovuto chiudere partiti di opposizione ha dovuto imporre il canale unico e quindi forse qualche oppositore ci sarebbe pure se solo venisse mostrato mediaticamente ma ci diceva Guy Debord che ciò che non appare non è per la società dello spettacolo e quindi se l'oppositore non appare vuol dire che non esiste viceversa se appaiono solo oppositori vuol dire che i non oppositori non esistono quindi l'ordine del discorso mediatico svolge una parte sicuramente imprescindibile sempre più importante direi di fatto come si diceva il dittatore sanguinario deve sempre esserci sia esso Milosevic sia esso Saddam Assad Putin Xi Jinping il macellaio Putin ricorderete questa non felice ma al tempo stesso evocativa espressione utilizzata da Joe Biden presidente degli Stati Uniti d'America c'è il dittatore che è sanguinario ma sempre novello Hitler il popolo non riesce a liberarsene ma arrivano poi puntualmente puntuali come un orologio elvetico gli Stati Uniti a favorire la liberazione del paese oppresso e in questo abbiamo già detto che la prassi del bombardamento dopo Hiroshima e Nagasaki torna puntualmente perché dicevo c'è una simmetria della colpa in forza della quale ci siamo giustamente pentiti dei Gulag e di Auschwitz ma non ci siamo pentiti come umanità in generale parlo delle due bombe atomiche che quindi possono tornare a manifestarsi come male necessario e allora dopo lo sterminio di centinaia di migliaia di civili in Iraq gli Stati Uniti per la figura di Albright dissero testualmente che fu un male necessario ne valse la pena ne valse la pena perché il bombardamento è orribile ma serve a lottare contro il dittatore è orribile ma serve a liberare dal nemico ecco questo è quello che viene quotidianamente ripetuto dagli strateghi dell'informazione anche ecco tra l'altro a proposito di destoricizzazione di teologizzazione del dibattito dove l'altro è presentato come il male come il novello satana e la parte buona invece è la divinità come disse lo stesso George W. Bush gli Stati Uniti d'America sono stati scelti da Dio per far triunfare la libertà in terra e lo stesso George W. Bush usò l'espressione axis of evil l'asse del male c'è un asse del male che unisce gli stati canaglia e che deve essere debellato sono l'impero del male come disse testualmente ecco sulla reduzione ad Hitlerum non mi soffermo oltre perché già l'abbiamo fatto voglio invece spendere due parole oltre che su quello che abbiamo detto anche sull'altro punto che evocavo la destrutturazione del diritto internazionale questo è un punto che ritengo importante quindi abbattere gli stati non allineati imporre il dominio del libero mercato americano centrico poi prevenire e lo dirò subito guerre o comunque prevenire l'emergenza di competitors internazionali e poi riscrivere il diritto internazionale ecco abbiamo una sorta di global war una guerra globale che di fatto è funzionale all'estensione del mondo di libero mercato e viene meno di fatto la guerra come era stata praticata e tematizzata nel tempo della pace di Vesfalia dalla pace di Vesfalia in poi la guerra nella modernità pur tragica nei suoi effetti era una guerra in qualche modo regolamentata se vogliamo dire così una guerra regolamentata perché aveva delle regole precise che ne garantivano una mise in form secondo misura anche se poi gli effetti erano chiaramente distruttivi sotto questo riguardo abbiamo visto come con la nuova guerra dall'89 ad oggi si esca da questo da questo scenario per la prima volta con la nuova con la nuova epoca contemporanea si esce da quello che Carl Schmitt ha definito loius publicum europeum la citazione e i riferimenti si trovano nel nomos della terra di Carl Schmitt cos'era accaduto con loius publicum europeum che si era verificata la mise in form della guerra non si pretendeva di neutralizzarla Hegel ci direbbe che la guerra non si può neutralizzare ed è consustanziale al nostro essere al mondo ma si pretendeva di regolamentarla e di temperarla era la figura concettuale del temperamentum belli bisognava cioè addomesticare il più possibile i modi della guerra garantendo la pace come fine ultimo del guerreggiare così si spiega una lunga serie di esperienze della modernità ad esempio i trattati bilaterali e multilaterali pensate ancora alle convenzioni di Ginevra del 49 che caratterizzavano l'articolato ordine vestfalico degli stati sovrani nazionali in particolare si provava a definire nei suoi tratti essenziali loius ad bellum cos'è loius ad bellum è la regolamentazione delle cause che possono con diritto giustificare il cominciamento della guerra e che coincidono ad esempio con la difesa contro un'aggressione o con la riconquista di territori che sono stati sottratti illegittimamente in questi casi ben individuati si dà loius ad bellum in altri casi invece non è ammessa la guerra questo è un punto importante e la finalità della guerra era sempre identificata con la pace gli stessi modi del guerreggiare erano regolamentati quindi non c'era solo uno ius ad bellum come e quando e su che basi si può dichiarare guerra ma c'era anche uno ius in bello lo ius in bello è quella ricca e articolata serie di determinazioni che stabiliscono le modalità attenendosi alle quali la guerra può essere legittimamente condotta sostanzialmente possiamo dire che c'erano delle cose che si potevano fare in guerra e altre che non si potevano fare era una guerra regolamentata come dicevo ecco il tempo della deregulation dei mercati è anche un tempo di deregolamentazione della guerra con annichilimento come subito dirò sia dello ius ad bellum sia dello ius in bello la guerra dopo il 1989 diventa una guerra deregolamentata condotta come dice Bush nel discorso che abbiamo prima preso celermente in esame una guerra condotta fino alle estreme conseguenze una guerra che ha per obiettivo la distruzione dell'avversario non la pace attenzione se il nemico è il terrorista e se questo è uno scontro globale di civiltà l'obiettivo non è la pace l'obiettivo è la distruzione costi quel che costi del nemico questo è un punto importante cessa di essere la pace l'obiettivo e diventa la neutralizzazione del nemico abbiamo allora come obiettivo della guerra ad esempio è il caso di questa guerra l'obiettivo di questa guerra gli Stati Uniti l'hanno già detto in più occasioni non è la pace l'obiettivo di questa guerra in ultima istanza è un regime change è togliere Putin da dov'è sostituire Putin il dittatore perfido novello Hitler e produrre un regime change mediante il quale si garantisca che la Russia d'ora in poi sia più allineata al Washington Consensus meno refrattari rispetto alla globalizzazione americano centrica in sostanza il regime change con cui la guerra viene a coincidere è la sostituzione del presidente di turno non allineato con un presidente filo atlantista di provata fede neoliberale ecco sotto questo riguardo assistiamo esattamente a una deregolamentazione della guerra che di fatto passa sotto il segno della guerra preventiva anche come subito diremo a questo riguardo c'è un importante discorso pronunziato il 21 settembre del 1993 da Anthony Lake chi era Anthony Lake era il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense in sostanza venuto meno il comunismo siamo nel 93 il leviatano a stelle e strisce deve assumere l'egemonia mondiale venuto meno il nemico che ci ha frenati possiamo ora finalmente passare all'incasso diceva sostanzialmente Lake bisognava in qualche modo garantire tramite lo sviluppo globale del libero mercato garantito dagli Stati Uniti bisognava in qualche modo favorire lo sviluppo delle democrazie e dei diritti intesi come sinonimici rispetto al mercato ovviamente building market and democracy costruire mercato e democrazia quasi come se le due cose coincidessero e diventava da quel momento il motto per il progetto di un nuovo secolo americano così veniva definito a new american century un nuovo secolo americano bisognava portare sotto le ragioni della democrazia di mercato l'intero mondo questo diceva testualmente nel suo discorso bisognava a quel punto favorire una guerra planetaria come di fatto è questo appunto che abbiamo chiamato global global war questa nuova guerra che la monarchia del dollaro conduce contro tutti gli stati non allineati si rivela allora limpidamente da due aspetti intanto sottomettere a sé il mondo intero rimasto orfano del bipolarismo russia stati uniti e poi garantire la propria sicurezza globale global security la chiamano prevenendo ogni possibile resistenza o contestazione all'ordine americano centrico questo è quello che dà luogo poi anche a ciò che dopo l'11 settembre è divenuto canonico cioè il preventive war la guerra preventiva che cos'è la guerra preventiva è la guerra che si giustifica in nome della lotta contro chi viene in astratto definito terrorista anche se poi in realtà molto spesso è semplicemente un avversario di Washington la guerra preventiva è il rovesciamento dello ius ad bellum se ci pensate perché la guerra preventiva è la guerra che io posso dichiarare se sospetto che in quello stato ci sia un mio nemico un terrorista qualcuno che può nuocermi e se però non c'è io dichiaro guerra cosa succede punto di domanda e su che base io posso fare una guerra preventiva siamo totalmente fuori dai perimetri dello ius ad bellum vestfalico come si diceva e questo non deve sfuggire il 17 settembre del 2002 il National Security Strategy of the United States of America compendiava in due punti basici il dispositivo della guerra preventiva che cos'è la guerra preventiva qual è il suo obiettivo qual era l'obiettivo di questa guerra preventiva primo la garanzia del progetto egemonico statunitense su scala globale secondo il mantenimento della total force atlantista per impedire il terrorismo e la rinascenza di conflittualità anti-americane in sostanza nel quadro di questo nuovo ordine mondiale americanizzato la guerra preventiva era la guerra che gli Stati Uniti si sentivano titolati di condurre contro chiunque si frapponesse rispetto al loro interesse rispetto al loro interesse del resto una guerra preventiva è una guerra che esula da ogni convenzione evidentemente che si basa su ipotesi non su fatti e quindi senza convenzioni diceva Tommaso Hobbes nel Leviatano i patti senza la spada sono solo parole quindi il diritto ha una sua efficacia solo se c'è un equilibrio di forze se no è solo la voluntas del più forte questo è il punto il diritto vesfalico era un diritto tra forze in equilibrio il diritto oggi è semplicemente possiamo dire così lo ius sive potenzia io sono il più potente quindi il diritto lo faccio io e se sospetto che tu sia un terrorista ti dichiaro guerra e ho titolo per farlo sono legittimato a farlo ecco questo è il paradosso pensate che l'idea della guerra preventiva tra l'altro fa apparire di fatto come la carta delle Nazioni Unite sia carta straccia rispetto alla la voluntas della civiltà del dollaro perché l'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite dice che uno stato è titolato a utilizzare la violenza la forza solo quando è attaccato da un altro stato testualmente dice if an attack occurs se occorre un attacco se capita un attacco e come può una guerra preventiva giustificarsi su questa base nessuno mi ha attaccato ma io sospetto che mi attaccheranno e quindi attacco io per primo ecco è il rovesciamento di quello che abbiamo detto in sostanza il nuovo bellum iustum o global war dissolve ogni limite sia nello ius ad bellum sia nello ius in bello tutto può condurre al diritto della guerra e in modo analogo tutto può essere compiuto in guerra perché se il nemico è il terrorista io posso farne tutto ciò che voglio a patto che lo annienti e quindi garantisca la neutralizzazione del 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 nemico del nemico ridotto a terrorista sotto questo riguardo i diritti umani hanno svolto e continuano a svolgere una funzione ideologica fondamentale si vede al libro di Slavoj Zizek Against Human Rights contro i diritti umani cioè contro l'uso ideologico dei diritti umani che di fatto sono come ha con felice formula detto Noam Chomsky the umbrella of USA power i diritti umani sono l'ombrello della potenza statunitense ed è proprio il modo con cui a livello narrativo giustificano appieno la propria pretesa di dichiarare guerra the rest of the world a tutto il mondo non sottomesso a Washington con la Libia con l'Iraq con la Serbia sono riusciti abbastanza celermente diverso il caso dell'Afghanistan per molti versi in vero con la Russia e con la Cina e sarà oggetto poi delle prossime elezioni il rapporto diventa più più complicato come ben potete immaginare ed è curioso faccio solo un ultimo cenno a questa cosa il modo con cui questo paradigma del terrorista del nemico del nuovo Hitler giustifica la guerra totale quindi fa dissolvere lo ius ad bellum e lo ius in bello e genera un conflitto fra umanità e barbarie tra buoni e terroristi molte voci autorevoli del nostro tempo hanno giustificato tutto questo voglio citare Norberto Bobbio che giustificò l'aggressione della Serbia nel 99 voglio citare Jürgen Habermas che con un testo intitolato bestialità o umanità nel 99 di fatto distingueva fra l'umanità di chi garantisce i diritti umani e la bestialità degli stati che li violano e che in quanto tali debbono essere sistemati con le bombe umanitarie e con gli interventismi etici cioè subentra un paradosso orwelliano per cui si chiamano operazioni di peacekeeping le aggressioni militari si chiamano interventismi umani i bombardamenti e subentra quello che con una fortunata formula il sociologo Ulrich Beck ha chiamato il militarische pacifismus il pacifismo militare che è il paradosso ovviamente ossimorico fin dal nome del nostro tempo in cui di fatto viene giustificato l'ingiustificabile all'interno di questa nuova democrazia missilistica made in USA in cui parafrasando lo spinosa del trattato politico la superbia è propria dei dominanti i dominanti sono superbi e piegano a sé anche quelle che sono dette le istituzioni internazionali pensate ad esempio ai tribunali internazionali proprio oggi mentre stiamo parlando Ursula von der Leyen ha esplicitato la volontà di creare un tribunale internazionale un'istituzione che giudichi i crimini della Russia che giudichi i crimini della Russia e questo è interessante perché ci riporta quella figura che Danilo Zolo chiamava la giustizia dei vincitori si pensi al caso della Serbia del 99 che è il caso che fa lo stesso Danilo Zolo al tribunale dell'AIA venne giudicato appunto Milosevic ma curiosamente il tribunale dell'AIA archiviò tutte le denunce contro i vertici della Nato macchiatisi di crimini efferati e nefandi vennero tutte archiviate la giustizia internazionale era al servizio delle potenze a trazione atlantista il colpevole era per definizione Milosevic e i crimini commessi da Washington erano archiviati immediatamente sotto questo riguardo bisognerebbe rileggere il teorema di Trasimaco libro primo della Repubblica la giustizia come il diritto l'interesse del più forte l'utile del più forte ecco sotto questo riguardo abbiamo sperimentato anche questo ed è come dire in estrema sintesi l'ordine di questa nuova quarta guerra mondiale grazie a tutti